Le associazioni della zona balneare sud di Siracusa chiedono maggiore attenzione da parte delle istituzioni sicurezza, pulizia e illuminazione. Siracusa Sud più che altro è zona balneare della città spesso abbandonata, è buio, è sporco, partiamo dall'illuminazione, anche una metafora per dire rimettiamo in luce quali sono i problemi di questa zona di Siracusa. Dobbiamo mettere un grande faro nelle zone balneari che hanno bisogno di maggiore attenzione e di un investimento, un investimento minimo che ci porti appunto alla maggiore sicurezza, voi forse non lo sapete sicuramente ma ci sono stati diversi furti in tutta la zona balneare di Siracusa e questo non va assolutamente, se ci fosse stata l'illuminazione saremmo stati un po' più tutelati. Perché spesso si pensa che queste zone siano abitate soltanto nel periodo estivo, non è così? Ci sono persone che lì vi stanno tutto l'anno? Sì, infatti il nomignolo che abbiamo come zona balnearia ad oggi non deve esistere più, oggi il raggruppamento ha una sorta di anagrafica e può testimoniare, verificare, ma il comune lo sa, che queste zone sono ormai residenziali. Le persone da Siracusa sono andate via e sono andate verso le zone del sud di Siracusa, non voglio più chiamarle come zone balneare ma zone residenziali di periferia. Sono presenti tutti i rappresentanti di queste zone? Certo, allora Tatiana Gambarro, Plemirio, Plemirio, Plemirio Blu, poi c'è anche Arenella con Alessandro Caia e c'è Asparano che sta per venire il presidente e poi Fanusa e il TFM. E poi il comitato pane e biscotti importantissimo perché è ancora più di più abbandonato, perché è rimasto proprio ai margini di ogni sicurezza, di ogni attenzione.